Ed eccoci qua, siamo in arrivo in piazza Gavolenti dove ci sarà lo snap aperitivo di Natale con le due roberte. E facciamo come vuoi, backstage. Ogni condivisi e poi... Beh, citerei che tutti coloro che ho visto oggi nel snap aperitivo Gavolenti magari dessero l'opportunità di seguirli anche qui. E quindi mi invitassero gentilmente o i loro amici e i loro nickname per poterli trovare. Grazie mille, buona giornata a tutti.